Vincenzo Spadafora, ministro per lo sport e le politiche giovanili, ha rilasciato nuove dichiarazioni riguardo la possibile ripresa del campionato di calcio. In questi giorni il comitato tecnico-scientifico sta incontrando le varie componenti del mondo del calcio, non solo la FIGIC, per avere approfondimenti sul protocollo presentato. Se verrà trovata una sintesi tra il comitato e la Federcalcio, gli allenamenti potranno riprendere e questo avrà una ricaduta positiva anche sulla possibile ripartenza del campionato, ha dichiarato a Mimandarai 3. Poi il ministro Spadafora ha voluto lanciare un messaggio a tutte le società del massimo campionato italiano. Bisogna lanciare un appello anche alla Serie A per finire qui polemiche e scontri, perché il calcio deve essere anche in questo momento un simbolo di leggerezza, passione e gioco. In attesa di capire quando si riprenderà ad allenarsi e quando si tornerà a giocare, i calciatori continuano nelle loro abitazioni il periodo di isolamento. Il fuoriclasse della Juventus Cristiano Ronaldo è stato uno dei primi a decidere di andare all'estero con la famiglia per trascorrere questi giorni, isolato sull'isola di Madeira con tutta la famiglia e il personale al servizio. In attesa di sviluppi legati all'emergenza sanitaria attualmente in corso, come comunicato dal club Bianconero. Attualmente però Paolo Di Bala risulta ancora positivo al Covid-19 dopo diverse settimane e questo potrebbe portare CR7 a decidere di rimanere ulteriormente in isolamento rimandando il rientro in Italia, aspettando date di ripresa e condizioni di sicurezza totale. È ormai noto che il Barcellona voglia assolutamente portare Lautaro Martinez in Spagna e ora potrà farlo, sempre che però rispetti le condizioni dettate dall'Inter. Secondo il sito della testata iberica AS, la società nerazzurra ha stabilito le condizioni per il trasferimento dell'argentino il cui contratto scadrà nel 2023 e include una clausola recissoria da 11 milioni. Per riuscire a portarlo al Camp Nou, il Barça dovrà sborsare 90 milioni di euro, accordare la cessione definitiva di Arturo Vidal e concedere per un anno Antoine Griezmann ai Meneghini con la formula del prestito gratuito. Sono richieste tutt'altro che indifferenti, ma il club blaugrana sembra determinato a raggiungere i suoi obiettivi e potrebbe provare ad instaurare una trattativa. Su queste basi però anche i media spagnoli sono scettici. Le misure annunciate dal governo per la cosiddetta fase 2 hanno sollevato molti dubbi e perplessità e anche l'allenatore della Roma Paolo Fonseca non è completamente soddisfatto del nuovo DPCM che prevede tra le altre cose la possibilità di fare attività fisica in un parco ma non permette la ripresa degli allenamenti fino al 18 maggio. Il calcio dovrebbe riprendere con gli allenamenti. Non riesco a capire perché si può correre in un parco pieno di persone e invece non ci si può allenare a Trigoria dove ci sono tutte le possibilità di lavorare in sicurezza, ha dichiarato il tecnico in una diretta Skype su Teleradio Stereo. Secondo Fonseca riprendere il calcio è importante perché può sollevare il morale delle persone. In questa situazione difficile la Roma può aiutare a dimenticare il problema sociale. Se abbiamo una squadra che fa sognare i romanisti la città può essere allegra, ha affermato il tecnico capitolino.